Siamo qui con Carbotti Michele che oggi si viene a divertire questa domenica al circuito La Scaglia Che tempo hai fatto oggi? Molto alto ma non ho abbassato, sono prove libere Più che altro dato che mi sono ingarellato con alcuni ho voluto fare un po' di prova gara Il tempo è 45,9, molto alto Calcolando che il mio è 44 basso, insomma, devo recuperare due secondi C'è da abbassare, sicuramente in gara ne vedremo delle belle Che cosa ti aspetti oggi? Divertimento, divertimento, divertimento Che spettacolo Sempre così Non ci resta che dare un grosso in bocca al lupo e ci vediamo in pista Certo Ciao Grande